Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Quest'oggi il tutorial è un po' particolare perché non parleremo di Adobe Premiere ma parleremo anche di After Effects Sì, finalmente parleremo un pochino anche di questo fantastico software per realizzare grafica Molte volte facendo corsi di Premiere a persone di varia estrazione Quindi a persone che devono imparare Premiere per lavoro, a persone che devono imparare Premiere semplicemente per passione Mi viene fatta la fatidica domanda Ma come funziona After Effects? E come faccio a fare grafica in After Effects e poi importarla in Premiere e farla funzionare bene nei miei progetti? Ecco, la risposta che do sempre è difficile After Effects non è un software intuitivo come Adobe Premiere E After Effects richiede sicuramente molto più impegno che Premiere per poter essere padroneggiato al meglio Però, visto che questa è una domanda che vi viene fatta da molte persone in molti contesti e in molte situazioni diverse Colgo l'occasione, visto che alla fine in un certo senso parleremo anche di Premiere Per mostrarvi come poter realizzare un semplicissimo sottopancia in After Effects E poi importarlo e farlo funzionare dentro alla versione 2019 di Adobe Premiere Detto in parole semplici, quello che oggi faremo è realizzare un sottopancia Vale a dire un testo con scritto il nome, il cognome e la qualifica della persona che magari sta parlando nel nostro video in Adobe Premiere E poi importarlo dentro al nostro software di montaggio ed inserirlo nella nostra timeline, nella nostra sequenza Ancora più semplicemente realizzeremo questo Un semplice sottopancia realizzato in After Effects Magari non è la cosa più elegante del mondo, però è funzionale a quello che voglio mostrarvi in questo tutorial E alla fine di questo video importeremo questo lavoro realizzato in After Effects Dentro al nostro software di montaggio preferito, Adobe Premiere In modo da farlo funzionare all'interno dei nostri progetti video Prima di cominciare però voglio invitarvi a venirmi a trovare sul mio sito internet www.fabioambrosi.it Sito internet che contiene tutti i tutorial che sto realizzando su YouTube Oltre ad articoli che illustrano meglio nel dettaglio gli argomenti trattati all'interno dei video tutorial Inoltre vi invito a venirmi a trovare anche sul canale YouTube Che contiene tutti i tutorial realizzati fino ad oggi Con delle playlist che raccolgono un po' tutti gli argomenti che sto affrontando settimana dopo settimana E vi invito anche a venirmi a trovare sulla mia pagina Facebook Cercate Fabio Ambrosi, registratevi, iscrivetevi, mettete un like, non so come si dice Mettete un mi piace probabilmente E qui pubblicherò di volta in volta gli argomenti che affronterò all'interno dei miei video tutorial Detto questo non perdiamo altro tempo Apriamo After Effects finalmente e vediamo come funziona questo benedetto software Eccoci tornati all'interno di After Effects Da qui partiremo per creare la nostra fantastica grafica Da dove iniziare? Bene, questa è la schermata che troverete una volta aperto After Effects per la prima volta Questo non è un corso di After Effects Io non sono un grafico Quindi mi terrò la larga dall'insegnarvi tutti i segreti di questo software Che è un software molto complesso e anche molto potente di conseguenza Lo scopo di questa lezione è creare un sottopancia E inizieremo il nostro processo di creazione cliccando sul bottone centrale Che vedete evidenziato in questo momento chiamato nuova composizione Prima di iniziare cliccare su questo bottone una piccola premessa Se in Premiere abbiamo le sequenze e abbiamo le timeline Dentro ad After Effects per poter inserire il materiale che vogliamo montare Abbiamo un oggetto che si chiama composizione Ok? Quindi vedete la composizione come le sequenze in Premiere Più o meno Ci sono delle differenze ma non le esploreremo in questa sede Altra cosa da precisare è che come in Premiere c'è un pannello chiamato pannello progetto Al cui interno andremo ad inserire e compariranno tutti gli elementi grafici O quasi tutti gli elementi grafici che andremo a creare con After Effects In basso c'è una timeline che conterrà le nostre composizioni Ok? Quindi quello che andremo a creare con After Effects E al centro comparirà l'anteprima di quello che stiamo creando Tutto il resto per il momento ignoratelo Clicchiamo sul bottone nuova composizione e voilà Una prima finestra ci chiede innanzitutto come vogliamo chiamare la nostra composizione Noi vogliamo chiamarla sottopancia Ok? Sottopancia È un nome totalmente aleatorio Potete scrivere quello che volete Serve a voi per restare ordinati Poi noi lavoriamo in HD Quindi vanno già bene queste impostazioni 1920x1080 sono le dimensioni del frame che andremo ad utilizzare per lavorare in HD Ma chiaramente potete creare una composizione della dimensione che volete Questo è il mio consiglio Se dovete lavorare con un video in HD Lavorate in HD Ok? Poi i pixel sono quadrati Non vado oltre Potete creare vari formati di pixel Ma non entro nel dettaglio 25 fotogrammi per secondo vanno più che bene Perché lavoriamo in Italia E salvo diverse indicazioni Questo è il numero di fotogrammi che dobbiamo utilizzare quando creiamo grafica Salvo casi eccezionali che non andremo qui ad esplorare Altra informazione che dobbiamo fornire ad After Effects È la durata della nostra composizione Perché una durata? Perché mentre in Premiere una sequenza teoricamente può essere infinita Non dobbiamo preoccuparci di creare una sequenza con una durata ben precisa In After Effects la prima differenza rispetto a Premiere È che noi dobbiamo creare un contenitore Quindi una composizione che abbia una durata di riferimento ben precisa Possiamo modificarla poi in un secondo momento Ma orientativamente dobbiamo già fornire adesso ad After Effects questa informazione 10 secondi per un sottopancia vanno più che bene Quindi lasciamo anche la scritta 10 secondi Normalmente di default se non avete mai utilizzato After Effects La durata di base è 30 Quindi modificatela perché sia di 10 secondi Quindi cliccate pure ok e voilà Ecco qui abbiamo creato la nostra prima composizione La trovate qui nel pannello progetto In basso vedete che la timeline si è popolata con la prima composizione che abbiamo creato E adesso possiamo finalmente iniziare a lavorare Al centro c'è il monitor di anteprima E dobbiamo semplicemente iniziare a creare qualcosa Iniziamo col creare un testo Un testo che poi modificheremo in un secondo momento in Premiere Ma per il momento inseriamo un testo a nostro piacimento Clicchiamo sullo strumento testo in alto a sinistra O tasto di scelta rapida da tastiera CTRL T Come potete vedere si illumina la T Oppure clicchiamoci direttamente sopra E andiamo a cliccare sempre con il tasto sinistro del mouse All'interno del nostro monitor di riferimento Clicchiamo e inseriamo un testo Per esempio nome e cognome Tutti quanti hanno un nome e un cognome Quindi sicuramente un sottopancia avrà un nome e un cognome Una volta che clicchiamo col tasto sinistro del mouse All'interno del nostro monitor e scriviamo qualcosa In basso compare un primo livello Gli elementi dentro ad After Effects Che compaiono dentro a una composizione Si chiamano livelli Questo è un software che funziona a livelli Come in Premiere Quello che è più in alto Ha priorità rispetto a quello che è più in basso In altre parole il primo livello Nasconde quello che è sotto Ma lo vedremo meglio Più avanti in questo tutorial O in altri tutorial E sostanzialmente adesso Quello che dobbiamo fare Giunti a questo punto Del nostro lavoro E spostare questo testo Perché noi un sottopancia Si chiama sottopancia Non vorremmo vederlo proprio in mezzo Al faccione della persona intervistata Come si sposta? Innanzitutto dobbiamo tornare Nella modalità selezione Perché vedete che Ancora è selezionato lo strumento testo Quindi clicchiamo sulla freccettina Sempre in alto a sinistra Nella nostra toolbar Che rappresenta lo strumento selezione O tasto di scelta rapida La lettera V della tastiera Oppure V come preferite E vedete che Tornando sopra Al monitor di riferimento Non c'è più Il cursore del mouse Che ci indica Che possiamo inserire del testo Ma il cursore del mouse È una freccia Che ci permette Di cliccandoci sopra Spostare il nostro testo A piacimento Prima domanda Dove inserire? Dove posizionare questo testo? Ecco Essendo un sottopancia È bene magari metterlo sotto Sicuramente Ma quanto Possiamo spingerci Ai bordi Della nostra composizione? Ecco Primo consiglio Quando lavorate in grafica Sempre Evitate di posizionare Gli oggetti Troppo vicini Al bordo Della nostra composizione Del nostro fotogramma Perché Alcuni dispositivi Ad esempio Alcune televisioni Possono tagliare Il nostro sottopancia E quindi Sostanzialmente Avremo dei problemi Di visibilità Quindi dove posizionarlo? Allora In After Effects Esiste una funzione Chiamata griglia O anche Semplicemente Safe Area Che ci indica Ci dà un riferimento visivo Sul punto In cui poter andare A posizionare La nostra grafica Se vedete bene Sotto al monitor Di riferimento C'è Tutta una serie Di bottoni Che non esploreremo Oggi Ma c'è Un bottone Che ci interessa In particolar modo Questo Che in questo momento Ho selezionato Chiamato Scegli opzioni Griglia E guida Cliccandoci sopra Possiamo accendere L'opzione Sicurezza Azione Titolo Cliccando sopra Questa scritta Compariranno Una serie di linee Una griglia Chiamata Che ci aiuteranno A posizionare Il nostro testo Ecco Il mio consiglio È di posizionare Il testo All'interno Del quadrato Più interno Ecco Scusate il gioco Di parole Però ecco Questo è Ok Quindi posizioniamolo Magari un po' più in alto Perché sotto Andremo ad inserire La qualifica Ovvero Il mestiere Che fa La persona Che per esempio Abbiamo intervistato Ok Mettiamola qui Fantastico Dobbiamo adesso Inserire un altro testo Che in Premiere Noi modificheremo Per andare a scrivere La qualifica Noi possiamo Nessuno ce lo vieta Cliccare nuovamente Sul tasto T Per inserire nuovamente Il testo E cliccare Poi all'interno Del monitor E inserire Un secondo testo Ma visto che Vogliamo essere precisi E vogliamo allineare La seconda scritta Direttamente alla prima Un consiglio Che voglio darvi È quello di duplicare Questo livello Quindi sostanzialmente Creare un livello Identico a quello Che abbiamo già creato E spostarlo Poi un pochettino In basso In maniera Da restare Perfettamente allineati Come si duplica Come si duplica un livello Esistono due modi Per farlo O cliccare sopra Il livello E andare con la tastiera E cliccare CTRL D Vedete che il livello Viene duplicato Oppure Faccio CTRL Z Andare sopra A Modifica E scegliere Duplica Il risultato È esattamente Lo stesso Abbiamo duplicato Il livello Abbiamo due livelli Sovrapposti Uno sopra L'altro Quindi sostanzialmente Non li distinguiamo Spostiamo Uno dei due livelli Un pochettino Più in basso Quindi clicchiamo Con il tasto sinistro Del mouse Spostiamo E teniamo premuto Dopo aver cliccato Il tasto Shift Sulla nostra tastiera In maniera tale Che il nostro testo Venga agganciato Alla posizione Del Del Testo Genitore Ok E abbiamo Creato due testi Sostanzialmente Uno sopra L'altro Perfettamente Allineati Modifichiamo Il secondo testo Più in basso Facendo doppio clic Con il mouse Sopra Al testo Che vogliamo Modificare E scriviamo Per esempio Qualifica Tutto minuscolo Via Qualifica Perfetto Abbiamo creato Una piccola Un piccolo Sottopancia Molto semplice E molto grezzo Cerchiamo di renderlo Un pochettino Più artistico Poco eh Perché io non sono un grafico E di arte Non ho veramente nulla Però Proviamo a creare qualcosa Di un pochettino Più artistico Per esempio Creiamo una linea orizzontale Che separi il nome Il cognome E la qualifica Oh Creiamo lo spazio Intanto Quindi torniamo Sempre allo strumento Seleziona È importante Altrimenti andiamo a scrivere Altro testo Clicchiamo sopra Il testo più in basso Col tasto sinistro Del mouse Spostiamo leggermente E premiamo Il tasto shift Sulla nostra tastiera Per spostare Il nostro testo E allinearlo ancora A quello Sopra Stante Ok Abbiamo creato Un po' di spazio Fantastico I due testi Sono sempre allineati E abbiamo creato Un pochettino di spazio Inseriamo una linea Ok Una linea orizzontale Come si inserisce Una forma O una linea Innanzitutto Assicuratevi Di non aver Nessun livello selezionato Altrimenti Andremo a creare Un'altra cosa Che vedremo più avanti Sempre all'interno Di questo corso In alto Come potete vedere C'è Un'icona A forma di penna È lo strumento penna Niente più E niente meno Lo strumento penna Tasto di scelta rapida La lettera G Sulla nostra tastiera Ok Clicchiamo sullo strumento penna Come potete vedere Qui abbiamo diverse opzioni Che possiamo modificare Per esempio Il riempimento Che per una linea È praticamente inesistente Quindi possiamo ignorarlo E il tratto Il tratto non è altro che Il contorno Della nostra linea Quindi sostanzialmente Questa opzione Andrà a modificare Il colore Della nostra Della nostra linea Clicchiamo Sopra il colore Scegliamo il colore Che vogliamo Facciamolo per esempio Non so Che colore Vi può piacere a voi Facciamolo Arancione Via Perché no Diamo ok E vedete che È cambiato il colore In questo momento Arancione Fantastico Ho sempre con lo strumento Penna selezionato Come potete vedere All'interno del monitor Di riferimento Il cursore del mouse È cambiato Ed ha assunto La forma di una penna Ok Ora clicchiamo Una prima volta In mezzo Alle due scritte Un pochettino a sinistra Tipo qui Clicchiamo Perfetto E tenendo premuto Il tasto shift Sulla tastiera Clicchiamo Un pochettino più a destra Olè Perché dobbiamo cliccare Il tasto shift Sulla tastiera Perché tenendo premuto Il tasto shift Sulla tastiera E inserendo Un secondo punto Creeremo Sostanzialmente Una linea Perfettamente Orizzontale E non obliqua Ok Ora Si vede poco Perché è selezionato Il livello Forma Che abbiamo appena creato Ma se io clicco Nell'area vuota Della nostra Della nostra composizione Deseleziono Il livello E vedete che abbiamo creato Sostanzialmente Una simpatica Linea Orizzontale Che è praticamente Quello che volevamo Voilà Praticamente Sottopancia È fatto Ora Non siamo stati Molto precisi Perché ho Attaccato troppo Questa linea Alla scritta Nome e cognome E l'ho staccata Troppo dalla scritta Qualifica Non sono perfettamente Allineate Se io mi sono sbagliato E voglio riposizionare Questa linea Come devo fare Ci clicco sopra E trascino Non proprio Prima di poter spostare Questa linea Se dovessimo aver sbagliato A posizionarla Dobbiamo tenere Acceso Lo strumento penna Ok Cliccare Sopra Selezionare Perdonatemi Il livello Che vogliamo spostare Premere Il tasto Control Sulla tastiera E vedete Che quando andiamo Sopra la linea Il cursore diventa Una mezza Una mezza freccia E A questo punto Clicchiamo E spostiamo Leggermente Il nostro La nostra linea Un pochettino Più in basso In modo da Ecco Dare più o meno Un'equa distanza Tra le due scritte Ecco qua Adesso è sicuramente Molto migliorata A questo punto Dobbiamo Creare un'animazione Faremo una cosa Molto semplice Faremo Partire Questa linea Da Invisibile Praticamente E la faremo Comparire Da sinistra Verso destra Esistono Dei preset Già Già creati Allo Per questo scopo Ma visto che stiamo facendo Un tutorial Perché non farlo a mano Quindi facciamolo a mano Sostanzialmente Come si fa A creare L'animazione Di una linea Che compare Da sinistra Verso destra Allora Intanto Togliamo di mezzo Le cose che non ci servono Quindi nome e cognome Qualifica In questo momento Non ci interessa Spegniamoli Come si spegne un livello Basta cliccare Sul tasto Occhio Si chiama così Vicino al livello Corrispondente E nascondiamo E nascondiamo per il momento I livelli che non ci servono Blocchiamoli anche Vedete che c'è un lucchetto Qui nella nostra composizione Clicchiamo All'altezza Del livello Che vogliamo bloccare Ecco qua In questo momento I due livelli Testo Sono praticamente Inutilizzabili E nascosti Ci concentriamo Sulla linea Come si fa A creare L'animazione Che vogliamo Dobbiamo creare Una maschera Che cos'è una maschera La maschera È uno strumento Che come dice La parola stessa Ci permette Di mascherare Sostanzialmente Quello che è Dentro la maschera Verrà mostrato Quello che è fuori Dalla maschera Verrà nascosto Ok Clicchiamo Sopra Al livello Forma Che possiamo Rinominare Magari chiamiamolo Linea Così ci capiamo meglio Per rinominare Un livello Basta selezionarlo Tasto destro del mouse E cliccare su Rinomina Ok Chiamiamolo adesso Linea Così è tutto più chiaro Clicchiamo fuori E voilà Dicevo Selezioniamo il livello Linea Ok Che adesso È selezionato E a questo punto Dopo aver Acceso Lo strumento Penna Non andiamo A disegnare Ancora una volta Una linea Ma andiamo A disegnare Una maschera Come potete vedere Esistono due bottoncini Sempre qui in alto Il primo Ci permette Di disegnare Una forma Quindi se io Non lo tengo acceso Il primo Il primo Il primo bottoncino E clicco all'interno Della composizione Del nostro monitor Vado a creare Una forma Ma non è quello Che voglio fare Quindi Control Z E via Voglio creare Una maschera Quindi sempre Dopo aver selezionato Il nostro livello Lo strumento Per creare La maschera E a questo punto Posso creare Una maschera Però Invece di creare Una maschera A forma di linea Che non ha molto senso Voglio creare Una maschera A forma di quadrato Come si fa? Ecco un altro strumento Che viene in nostro soccorso Lo strumento Rettangolo Ok? Clicchiamo sopra Lo strumento rettangolo Funziona esattamente Come lo strumento penna Più o meno Ma per quello che serve a noi Il funzionamento è lo stesso Anche qui esistono I due bottoncini Se lo doveste trovare In questa posizione Chiaramente Non dobbiamo creare Un rettangolo Dobbiamo creare Una maschera Riposizionate Lo switch Sulla opzione Maschera E Sempre con lo strumento Rettangolo selezionato Tracciate Un rettangolo Che comprenda Tutta la nostra Linea Et voilà Creo il Il mio rettangolo Maschera Ok? Creo la mia maschera Fantastico Dopo aver creato La mia maschera Sostanzialmente La devo modificare Perché come detto Quello che cade all'interno Della maschera Viene mostrato Quello che cade fuori Viene nascosto Visto che la nostra animazione Deve comparire Con la linea sottostante Nascosta E' chiaro che la nostra maschera Deve essere un pochettino Più piccola In modo da nascondere La linea sottostante Innanzitutto Dobbiamo tornare Allo strumento Selezione Ok? Una volta Cliccato sullo strumento Selezione Clicchiamo Sopra Alla Nuovo elemento Maschera Che abbiamo creato Notate come Il livello maschera Cada all'interno Del livello linea Perché la maschera Si riferisce Al livello linea Che abbiamo creato E una volta Selezionata la maschera Possiamo Cliccare Vedete Sopra Alla maschera E spostarla Per rimpicciorirla Basta Tenere premuto Il tasto Shift Sulla tastiera Selezionare I due punti Più esterni E vedete Che sto Sostanzialmente Modificando La dimensione Della mia maschera Per Modificare La dimensione Della maschera Senza andare In alto In basso Ma in maniera Perfettamente Orizzontale Tenete premuto Il tasto Shift Sulla vostra Tastiera In maniera tale Che possiate Vedete Scorrere Perfettamente In orizzontale Se avete problemi A selezionare Gli ultimi due Punti Della nostra Maschera Cliccate Con il mouse Sempre con la modalità Selezione Fuori dalla maschera In questo In questo modo E una volta Che avete Cliccato fuori Non troppo Altrimenti La deselezionate Ok Cliccate Tenendo premuto Il tasto Shift Sulla tastiera Sugli ultimi due Bottoni Ed ecco qua Che avete Selezionato Ok Gli ultimi due Punti E potete Modificare La dimensione Della maschera Notate come Quando la linea Sottostante Cade all'interno Della maschera La linea viene mostrata Quando la linea Sottostante Cade fuori Dalla nostra Maschera La linea viene Nascosta Guardate il riferimento Arancione Sottostante La nostra animazione Deve iniziare Con la nostra linea Sottostante Completamente Nascosta Quindi il nostro Rettangolo Maschera Lo teniamo In questa posizione In maniera tale Che nulla Cada al suo Interno E che sostanzialmente Tutto sia Nero Ok Per nascondere Tutte queste linee Che riguardano La nostra forma Linea E la nostra Maschera Basta cliccare Su questo bottone Che è il bottone Che sostanzialmente Mostra E nasconde Le maschere Vedete che adesso Non c'è più niente Ok Quindi riaccendiamo Il bottone Delle maschere E creiamo La nostra animazione Posizioniamoci Per esempio Sul frame Numero 12 Guardate qui A sinistra Che c'è L'indicatore Del tempo In cui ci troviamo In questo momento Ci spostiamo Sul frame 12 Ok E sostanzialmente Dobbiamo animare Questa maschera Come si anima Un oggetto In after effect Dobbiamo Utilizzare Un bottone Che si chiama Stopwatch Ovvero Cronometro Tutti gli elementi Che hanno un cronometro Vicino Sono animabili Per quanto riguarda La maschera Se fate caso A sinistra C'è una linguetta Una freccettina Cliccando Sulla freccettina Mostreremo Tutti Gli attributi Della nostra maschera Ogni attributo Come vedete Ha un piccolo Cronometro Quello Il bottoncino Che dobbiamo Premere Per poter animare La maschera Chiaramente Non dobbiamo animare Tutti questi attributi Dobbiamo animare Solo il primo attributo Che si chiama Tracciato maschera Il tracciato maschera È un po' La proprietà responsabile Della forma Che ha la nostra maschera Ok Quindi animando Questa proprietà Animeremo anche La nostra La nostra maschera Vedrete che È molto semplice Clicchiamo Sopra Al cronometro All'icona cronometro Vicino Al nome Tracciato maschera Sempre Dobbiamo animare Posizioniamoci Un pochettino Più avanti Per esempio Sopra il primo secondo Ok Vedete che Un secondo È formato Da 25 frame Quindi il 25esimo frame Diventa un secondo A questo punto Spostiamo Questa maschera Ancora una volta Selezionando I due punti Più esterni E tenendo premuto Il tasto Shift Sulla tastiera Posizioniamo Questi due punti All'estrema destra In maniera che Tutta la linea Venga mostrata E vedete che After effect Automaticamente Senza dover Premere ancora Nessun tasto Ha creato Un secondo diamantino Cosa vuol dire? Vuol dire che After effect Sa che In questo punto Della nostra composizione La forma Della nostra maschera È esattamente Questa Quindi In globa Comprende La linea sottostante Se andiamo a vedere Cliccando fuori E deselezionando tutto Quello che abbiamo fatto Non abbiamo fatto altro Che animare La maschera Perché guardate Se seleziono la maschera Quello che succede Animare la maschera Che è responsabile Di mostrare E nascondere La linea sottostante Quindi in questo punto La maschera sta qui In questo punto La maschera sta qui E questo movimento Fa sì che venga Mostrato E nascosto L'elemento sottostante Ovvero la nostra linea Vedete? E quindi sostanzialmente La nostra prima animazione È fatta Per vedere In tempo reale Quello che stiamo facendo Posizioniamo il cursore All'inizio della timeline Premiamo la barra Spaziatrice E voilà Questa è l'animazione Che abbiamo fatto Abbiamo animato La nostra linea orizzontale Oh fantastico Ipotizziamo però Che alla fine Della nostra Composizione Vogliamo far Sparire Questa linea Arancione Ok Quindi rinasconderla Come fare? È molto 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 semplice Aggiunti a questo punto Ri-selezioniamo la maschera Selezioniamo i due keyframe Facciamo Control-C Per copiarli Control-V Per incollarli Oppure se preferite Andate su Modifica Copia E poi Dopo averli selezionati E poi Modifica Incolla E vedete che abbiamo Esattamente copiato Questi due keyframe Alla fine Però chiaramente Noi alla fine Vogliamo che l'ordine Sia invertito Perché vogliamo Invertirli? Vogliamo invertirli Perché chiaramente Questo fotogramma Ha l'informazione Che la maschera Deve stare in questa posizione Invece noi In questo momento Della timeline Vogliamo che la maschera Stia ancora Bella intera Per poterli invertire Senza dover impazzire Basta selezionare Gli ultimi due keyframe Cliccare sopra Uno di essi Andare sopra Ad assistente Fotogramma chiave E scegliere L'opzione Fotogramma chiave In ordine Temporale Inverso Un po' sintetizzato Ma è questa L'opzione Clicchiamo E vedrete Che i due fotogrammi Sono stati invertiti E a questo punto L'animazione È sostanzialmente Capovolta Quindi Cosa abbiamo fatto Fino a qui Abbiamo creato Una linea Abbiamo creato Una maschera Abbiamo impostato Dei keyframe Che mostrano la maschera Allungano la maschera E giunti alla fine Della nostra composizione Rinascondono la maschera Ok Guardate La nostra maschera Che cosa fa esattamente La nostra maschera Viene stesa E poi Viene rinascosta E così L'effetto Che creiamo Premendo la barra Spaziatrice È questo Allora Fantastico Abbiamo animato La nostra linea Gialla Vogliamo adesso Animare Il nostro testo Il procedimento È molto simile E forse è ancora più semplice Guardate come fare Riaccendiamo Facciamo un po' di ordine Quindi riclicchiamo Sopra la linguetta Vicino alla nostra linea Così da nascondere Le proprietà Della nostra linea Che in questo momento Non ci interessano Sblocchiamo I livelli testo Ricliccando Sopra il lucchetto E mostriamoli Cliccando Sopra Sopra l'occhio Ok Quello che vogliamo fare È Fare in modo Che il testo Nome e cognome Qualifica Compaia In questa posizione E alla fine Scompaglia Con una bella Dissolvenza Come fare Allora Intanto mettiamoci Sul punto In cui vogliamo Far iniziare La nostra animazione Del testo Per esempio Qui Ok Al fotogramma Numero 17 Selezioniamo I due livelli Testo Che vogliamo animare Premiamo La lettera T Di Torino Sopra la tastiera In maniera tale Che venga mostrata La proprietà Opacità Perché Perché noi L'opacità La faremo partire Allo 0% In maniera tale Che il testo Sia invisibile E la animeremo Per far arrivare L'opacità Al 100% In maniera Che il testo Sia perfettamente Visibile E a questo punto Con entrambi I livelli Selezionati Clicchiamo Sopra Allo stopwatch Di uno Delle due Delle due Proprietà Opacità Ok Clicco Come potete vedere Vengono attivati Di stopwatch Su entrambi I livelli Selezionati Sulla proprietà Opacità E vedete Che qui viene creato Un diamante Che mi indica Che in questo punto L'opacità Deve stare Al 100% Ma noi vogliamo Iniziare Che il testo Sia invisibile Quindi noi Il valore Invece che al 100% Lo portiamo A 0 Ok Ci spostiamo Un pochettino In avanti Per esempio Quando la linea Viene completamente Mostrata Va benissimo Il fotogramma Un secondo E 03 E a questo punto Cliccando col tasto Sinistro del mouse E trascinando Verso destra Portiamo L'opacità Al 100% Vedete che Automaticamente After Effects Ha creato Un secondo diamantino Ok Che ha informato After Effects Che in questo momento L'opacità Deve stare Al 100% Volete una controprova Guardate Vado indietro L'opacità Qui deve stare Allo 0% Perché glielo avevamo detto Ok Qui L'opacità Deve stare Al 100% Fantastico La nostra Prima animazione Del testo E fatta Mando in play Con la barra spasitrice E questo è quello Che abbiamo ottenuto Alla fine Della nostra animazione Prima Che la nostra linea Orizzontale Sparisca Voglio far sparire Anche il testo Anche qui E tutto molto semplice Seleziono I primi due Keyframe Non fatelo Su tutti Keyframe Insieme Altrimenti Questa cosa Non funziona Selezionate Due keyframe Per volta Quindi i primi due Control C Per copiarli Control V Per incollarli Ed ecco Li abbiamo Sostanzialmente Replicati Nella stessa Identica Maniera Dell'inizio Della nostra Composizione Facciamo la stessa Cosa Con questi altri Due keyframe Senza muoverci Da questa posizione Quindi Control C Control V Ed ecco Che abbiamo Praticamente Copiato I primi Due keyframe Esattamente Alla fine Ma abbiamo Il problema Che avevamo Con le maschere Vale a dire In questa posizione Lui sa Che il keyframe Deve essere Impostato Allo 0% E questo Assolutamente Non va bene Noi In questo punto Vogliamo che La nostra animazione Sia ancora Al 100% Dell'opacità Dobbiamo Semplicemente Invertirli Ok Come fare Per invertirli Come abbiamo Fatto prima Selezioniamo I keyframe Tasto destro Del mouse Assistente Fotogramma Chiave Fotogramma Chiave In ordine Temporale Inverso Clicco Sopra E questi Due fotogrammi Sono stati Invertiti Facciamo La stessa Cosa Con i Fotogrammi Soprastanti Assistente Fotogramma Chiave Fotogramma Chiave In ordine Temporale Inverso E abbiamo Invertito Anche I due Keyframe Superiori Voilà La nostra Animazione Amici È praticamente Conclusa Possiamo Posizionarci All'inizio Della composizione Premere La barra Spaziatrice E Voilà Che Bello Abbiamo Creato La nostra Bella Animazione Voilà Nel prossimo Tutorial Vedremo Come Salvare Questa Animazione E portarla Dentro Ad Adobe Premiere Per poterla Poi inserire In tutti i Nostri Progetti Video In cui Vogliamo Utilizzare Questo Tipo Di Sottopancia Per il Momento Vi ringrazio Vi invito A iscrivervi Al mio Canale Youtube Qui Troverete Tanti Altri Tutorial Che sto Realizzando Giorno Dopo Giorno Quindi Iscrivetevi Se volete Sempre Essere Aggiornati Venite A trovarmi Anche Sul Mio Sito Internet www. Fabio Ambrosi .it Perché Qui Aggiungerò Oltre Ai Video Anche Alcuni Articoli Che Spiegano Per iscritto Quello Che Ci Siamo Detti All'interno Di Queste Video Lezioni E Se Vi Fa Piacere Venite A Trovarmi Anche Sulla Mia Pagina Facebook Fabio Ambrosi Detto Questo Ci Vediamo Nella Prossima Lezione Nella Seconda Parte Di Questo Primo Video Tutorial Sulla Grafica Essenziale Di After Effect Ed Adobe Premiere